La sanità non è un problema, la sanità è una risorsa e un'opportunità. Quindi tutto quello che aiuta la qualità in sanità, certamente poi c'è bisogno di avere una validazione da parte di soggetti indipendenti, terzi e tutto, ma tutto quello che aiuta la qualità in sanità è non solo benvenuto ma auspicato.